Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana, possibilizzati in autostrada in A1 e in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna, sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e tra Prato Ovest e il Bivio A11 e A1, tutto verso Firenze. In Fipili troviamo un chilometro di coda per lavori, tra Montelupo e Ginestra, in direzione di Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze per i cantieri tramvia, è stato allestito il cantiere per la realizzazione della sede tramviaria in Viale Fratelli Rosselli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!